Poco entusiasmo, anche oggi si sta aspettando un pacco e ho ricevuto una notifica, secondo me è già arrivato, sto per arrivare a casa, ciao Phil, sto per arrivare a casa e secondo me sarà già lì, vediamo. Dicati di salutare Dedde, ecco qua Dedde, stiamo rientrando, secondo me c'è qualcosa, vediamo se è sullo sgabellino o... no qui non c'è niente, c'è Ughino, ah eccolo lì il pacco, ecco qua, vediamo, voi scendete? Sì, aspetta, ecco qua, eccoci qua posizionati per l'apertura, vediamo e scopriamo che cosa c'è come novità, anche se già la si conosce, ecco qua, spostiamo questo, eccolo qui. No, chiaramente rilegato sempre alla modibozza, ciao Deddino, rilegato sempre alla modibozza, ecco qua, la chirurgia in trincea e tra poco mi posiziono per dare un'anteprima anche della parte interna. Posizionati, chiaramente, bambini permettendo che uno è qua, che salta, l'altro arriva con la bici, adesso dovrebbe spuntare da lì, eccolo lì, ciao Dedde. Ok, bambini permettendo, volevo presentarvi. Niente, mi sono spostato dentro perché era impossibile, fuori coi bambini che giocavano. Allora, ecco, è una cosa alla quale tengo molto questa pubblicazione, per la quale vorrei veramente ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, tutte le persone che si sono adoperate per aiutare in questa ricerca, e chiaramente anche, che adesso andremo a vedere, gli enti che hanno patrocinato e sostenuto il volume. Ecco, allora, quindi, la chirurgia in trincea, coraggio e abilità del gruppo chirurgico avanzato Andrea Marro, da Lisonzo al Monte Grappa, a cura di Bargoni, Capovilla, Spagli e Tonelli. Allora, il volume, adesso, come potete vedere, questa è proprio una bozza, una prova di stampa, prima proprio di dare l'ok definitivo. Il volume è caldamente, caldamente patrocinato dal comune di Pieve del Grappa, e anche dal Corpo Militare Volontario della Sanità, no, della Sanità, Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Scusatemi, stavo facendo una piccola gaffe. Ecco, sul retro di copertina abbiamo voluto inserire questa interessantissima epigrafe, che è l'epilogo, se vogliamo, di questa ricerca, e si capirà poi, leggendo il volume, come mai. Il volume, diciamo che è difficilmente sfogliabile, poiché ha, diciamo, delle parti rilegate tra di loro a graffetta e delle parti, invece, che non sono poi rilegate, e quindi è difficilissimo, anche con due mani, sfogliarvelo, anche se potrei farvi comunque vedere alcune parti, ma ci sono numerosissime immagini, soprattutto legate alla sanità, alle operazioni chirurgiche. Ah, ve ne faccio vedere una, perché è veramente stratosferico, e ringrazio il collezionista che ce l'ha data. Questo è il Monte Grappa, e questa è una foto che ho voluto inserire su due pagine, perché è veramente spaziale. Corpo sanitario del 55esimo reggimento, con il cappellano militare. Ecco, faceva parte dell'album di quella sezione di sanità. Ecco qua. Però, per capire meglio il volume, io credo che sia più interessante leggere direttamente la parte legata all'indice, per meglio capire. Non leggo tutto, leggo chiaramente i capitoli principali. Allora, c'è la prefazione del generale Lupini, che ringrazio, Genesi del libro, introduzione del professor Capovilla, la sanità militare nella Prima Guerra Mondiale del dottor Spagli, la risposta della sanità militare alle nuove esigenze chirurgiche, sempre il dottor Spagli, Spagli, scusate, Andrea Marro e la sua formazione chirurgica del professor Bargoni, l'opera di Marro e le strutture chirurgiche avanzate del dottor Spagli, la chirurgia all'inizio del Novecento e dei suoi riflessi nell'opera del gruppo chirurgico avanzato di Andrea Marro del professor Tonelli, ecco, scusatemi che non si vedeva, del professor Tonelli. Ecco, questa parte qua, non per elogiare una parte rispetto a un'altra, è veramente interessante per un contesto proprio storico e medico all'interno della Grande Guerra poi legata all'evoluzione delle operazioni chirurgiche e anche per meglio capire quali erano all'epoca, diciamo, dei punti critici, come ad esempio la chirurgia addominale, ben spiegata e ben, diciamo, illustrata dal professor Tonelli. Dopo c'è la parte di Andrea Marro stesso, ecco, quindi è una parte che abbiamo voluto rispettare fedelmente nella sua relazione del 1921, quindi unità chirurgiche leggere dislocate in prima linea con tutte le varie dislocazioni. Poi ho voluto inserire una parte fotografica di proiettili e schegge estratti da militari feriti che fanno parte chiaramente di collezioni e in particolare anche di ritrovamenti di oggi e poi estratti delle cartelle cliniche sempre di Andrea Marro, molto molto interessanti perché vediamo proprio il lavoro sul campo. E per ultimo, ma non per importanza, è un glossario creato sempre dai nostri curatori medici che hanno voluto rendere più comprensibile la lettura a, diciamo, persone meno esperte in maniera medico-scientifica, in materia medico-scientifica, spiegando alcune terminologie, alcune parti legate a, quindi terminologie di operazioni, di alcune, ad esempio possiamo vedere la bottoniera alla Marfi, cloronarcosi, compresse all'idroformio, cioè tutte cose ben spiegate in modo tale che si riesca a comprendere, anche per le persone come me che non masticano troppo dell'argomento. Ecco qua, la chirurgia in trincea.